Io sì, stamattina ho il schiato di andare fuori e lì ho detto oggi pomeriggio, oggi pomeriggio era la mia finale praticamente, perché per entrare sapevo che ci voleva questo tempo qua, o bene o male il mio, che era 3-9, 4-4-2 sono un pochino morto alla fine ma ci sta, 4-2 sono contento, sono entrato in finale a quello che volevo. Stai soffrendo il fatto dei capelli, no vabbè, i capelli volevo tagliarli, li ho tenuti tanto lunghi apposta perché volevo anche dare la soddisfazione più grande di tagliarli, alla fine vabbè si doveva fare per forza quindi l'ho presa anche con ironia, ah sì, per forza. Thomas questa scelta di non fare i due misti è stato proprio per risparmiare energia, no? Sì, io... Tu li avresti fatto? Eh sì, sì perché per entrare in semi nel 2006 c'era la 2-2, il 2-2 per rispetto non so di tutti non è che sia un chissà che di tempo, però poi il 100 d'orso devo fare 54-8 e non so se sarei riuscito a farlo, però comunque l'avrei fatto io. Però vabbè abbiamo deciso di saltare i due misti per fare il 100 in chiave staffetta perché magari se domani, non so, faccio 52-9 o batto Simone la faccio dal pomeriggio. È un po' improbabile però penso alla faccia lui. No, però insomma diciamo che è il massimo che ti aspettavi, si può ancora fare meglio, puoi ancora togliere qualcosa? Ehm, del 50 quello che valevo era 5 e mezzo, quindi quello bene o male è quello. Il 100, sì, qualcosina meno dovrei riuscire a fare domani, 4-0, 3-9, come quello degli assoluti più o meno. Poi vabbè quest'anno ci sono anche altre gare, speriamo di fare un pochino meno, speriamo di migliorare. Perfetto.